Ciao a tutti, sto facendo questo video perché vorrei poter condividere con tutti quanti e con voi in generale, cosa sotto la voce ma un po' di influenza, cosa ho ricevuto nella Beauty Vice, nel regalo, nella busta, come volete chiamarlo, e ricevuto ieri alla Masterclass di Chiara Ferragni e Manuele, quindi bando le ciance, si dice così, e sotto il casino che trovate in giro, ma sono in periodo di trasloco, quindi c'è già un macello ovunque, e iniziamo! Grazie a tutti! 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 Per questo video è tutto, per questo primissimo video è tutto, spero vi sia piaciuto, scusate la voce ma è la tosta, il raffreddore, qualsiasi cosa, è un trucco, e se vi è piaciuto quindi mettete un mi piace, potete seguirmi sulla campanellina, tutto eccetera eccetera, sapete come funziona, e se avete consigli o comunque qualcosa da mandare, commentate, un bacio! Grazie a tutti!